Buon pomeriggio e bentrovati dal Tg Cronache. Una situazione devastante. Questo è il commento fatto dagli inquirenti della procura di Catania che questa mattina hanno illustrato l'inchiesta per corruzione all'ispettorato del lavoro della città appunto di Catania. Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema che praticamente prevedeva un continuo scambio di favori per insabbiare oppure agevolare le pratiche degli amici. In altre parole veniva ignorato il lavoro nero in cambio di voti. Quattro persone tra cui c'è anche un ex deputato regionale sono finite ai domiciliari. Sono stati scoperti grazie alle telecamere nascoste messe appunto dagli inquirenti. Nell'inchiesta che è stata come dicevo illustrata dal procuratore Zuccaro di Catania l'inchiesta si è avvalsa anche di funzionari onesti. Parlando quindi di questa situazione corruttiva devastante. Zuccaro ha parlato anche che questa inchiesta è partita proprio da alcuni funzionari che hanno deciso di praticamente informare gli inquirenti delle irregolarità che ogni giorno, che quasi ogni giorno succedevano appunto all'ispettorato del lavoro. Pizzicati da una telecamera nascosta ecco la scena. L'uomo stempiato con gli occhiali è Marco Forsese ex deputato centrista della regione siciliana. Dalla scrivania del direttore dell'ispettorato del lavoro di Catania prende un fascicolo e lo consegna furtivamente a Salvatore Calderaro titolare di una tabaccheria. È materiale delicato, glielo mette sotto il giubbotto attento a nasconderlo bene. Quei documenti fatti sparire contenevano una multa ai danni dell'imprenditore 7 mila euro in seguito a un'ispezione, una multa per lavoro nero, fascicolo sottratto, multa non pagata. L'incartamento è stato trovato stamattina nella perquisizione a casa di Calderaro e per gli inquirenti chiude il cerchio un tassello del quadro di corruzione, scambio di favori affini elettorali, accordi privati, interessi personali che prevalevano su quelli pubblici. Tutto nella sede dell'ispettorato del lavoro catanese, il luogo istituzionale dove si dovrebbero controllare la regolarità dei contratti e delle condizioni di lavoro. È stato messo in luce che quell'ufficio tutto faceva tranne che tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che appunto vivono di lavoro. In chiesta denominata proprio black job, lavoro nero, il procuratore Zuccaro parla di una situazione devastante, nove indagati, quattro ai domiciliari, corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti. Coinvolti il direttore, la responsabile legale dell'ispettorato, il direttore sanitario dell'azienda provinciale, un ex consigliere del comune, due professionisti, due imprenditori, su tutti l'ex deputato regionale Marco Forsese, 55 anni. La scena dello scambio del fascicolo avviene nell'ottobre 2017, alla vigilia delle elezioni per la presidenza della regione siciliana. Forsese era candidato con la lista alternativa popolare, centristi per Micari, che non raggiunse il quorum. Io sono uno dei più votati grazie a questo signore qua, dice Forsese al telefono a proposito del tabaccaio che ha aiutato. Nelle intercettazioni, linguaggio criptico, piante al posto di soldi, sospettano gli inquirenti. Io amo molto le piante, dice Rosa Maria Trovato, responsabile legale dell'ufficio. Allora prendi qualche pianta, regalagliela. Ti pare che si prende 50.000 piante? Così risponde l'interlocutore. Nella reggia di Caserta, invece, sito Unesco, che ogni anno richiama milioni e milioni di turisti, due dipendenti che erano addetti alla sorveglianza sia interna che esterna, timbravano il cartellino e poi uscivano. Per loro sono scattate due ordinanze di custodia cautelare e però, come sentirete, sono una sorta di daspo e sono indagati per assenteismo. È successo ancora assenteisti durante l'orario di lavoro, solo che stavolta i due dipendenti pubblici coinvolti avevano il delicato compito di tenere sotto controllo la reggia di Caserta, proprio il complesso museale al centro di una polemica due anni fa innescata dai sindacati che accusavano il nuovo direttore Mauro Felicori di lavorare troppo fino a sera, un comportamento che metteva, secondo loro, a rischio proprio la sicurezza. I due addetti alla sorveglianza del museo arrivavano al lavoro, timbravano, secondo un copione già visto tante volte, e si assentavano per ore. Eccoli pedinati dalla squadra mobili di Santa Maria Capoavetere mentre escono per andare al bar. In altre occasioni sono stati sorpresi mentre andavano a mangiare una pizza o a fare commissioni personali. Addirittura in alcune giornate sono tornati a casa per poi ripresentarsi alla reggia a fine turno solo per vidimare l'uscita. L'indagine è scattata nell'agosto del 2016 a seguito della denuncia di un furto alla buvette del museo. Analizzando le immagini delle telecamere della sala operativa, gli investigatori si sono accorti che la qualità del video era ottima. Se qualcuno in quel momento avesse dato l'allarme si sarebbe potuto sventare anche quel furto, visto che gli uffici della polizia distano pochi metri dalla reggia. I dipendenti poi avevano dichiarato di non aver visto nulla e hanno riconfermato questa versione, ma la spiegazione non ha convinto gli investigatori che hanno fatto scattare i pedinamenti e le intercettazioni ambientali. I due dipendenti sono ora accusati di truffa, aggravata e continuata e false attestazioni sulla presenza in servizio. Stamattina gli sono state notificate le misure cautelari e avranno l'obbligo di presentarsi alla polizia prima e dopo l'orario di lavoro. Altre quattro persone sono indagate per assenteismo. Il danno per l'erario non riguarda solo lo stipendio percepito senza una reale prestazione, c'è anche il danno patrimoniale ed immagine, derivante dalla mancata vigilanza nella reggia vanvitelliana, la Versailles d'Italia, che così finiva per essere più esposta ai furti. Il delitto di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa il 31 gennaio scorso a Macerata. Sabato prossimo a Roma si svolgeranno i suoi funerali. Intanto l'inchiesta sull'omicidio della ragazza va avanti e questa mattina gli inquirenti hanno chiesto alla GIP una nuova misura cautelare nei confronti di inosente o segale. La madre di Pamela Mastropietro è a Macerata per riportarsi a Roma la figlia. Funerali sabato mattina vicino casa in via Appia Nuova, ma non bastasse quello che Alessandra Verni sta sopportando. Stamattina, mentre era impegnata nelle formalità burocratiche, un altro elemento si è aggiunto al suo strazio. Il 30 gennaio, poco prima di essere uccisa nella casa di Inno Sentosegale, Pamela ebbe con lui un rapporto sessuale completo. Gli accertamenti del RIS sul corpo della ragazza e sui trollei utilizzati dal nigeriano per cercare di disfarsene hanno evidenziato tracce inequivocabili. Procure e carabinieri del comando provinciale di Macerata hanno chiesto al GIP una nuova misura cautelare per omicidio. Finora Osegale era in carcere solo per reati satellite come l'occultamento di cadavere e per violenza sessuale, ma mentre la prima è stata accolta, la seconda è stata rigettata. Secondo il giudice per le indagini preliminari, Osegale potrebbe aver ucciso Pamela dopo un malore dovuto alla droga. È chiaro che noi a questo punto valuteremo se fare appello al tribunale per il riesame appunto a finché venga riconosciuto la sussistenza della violenza sessuale. Gli inquirenti di Macerata sono sempre più convinti che Osegale possa aver fatto tutto da solo. Nella casa del delitto nulla riconduce agli altri due nigeriani tirati in ballo da Osegale. Pamela potrebbe essere stata uccisa proprio perché si ribellava al rapporto sessuale. Il medico legale, oltre alle due coltellate fatali al fegato, ha rilevato un'ecchimosi su una tempia provocata da un oggetto contundente o dallo spigolo di un mobile. Osegale poi ha sezionato il corpo, lo ha infilato nei due trolley, ha pulito i vestiti e la casa talmente bene che soltanto il lumino l'ha permesso di rintracciare tracce di sangue ed è andato a lasciare le valigie lungo la strada provinciale di Pollenza. I suoi amici, arrestati per omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, Desmond Lachie e Lachie Auelima, restano in carcere colpiti dieci giorni fa anche dall'ordinanza di custodia cautelare legata allo spaccio di droga. Intercettati, uno dice all'altro che la tremenda fine di Pamela è un gioco da bambini. Andranghet aveva messo le mani su asti, omicidi, rapine, estorsioni ai commercianti, droga, infiltrazioni nelle società di calcio locale, nelle imprese di calcio estruzzo e nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Oggi la magistratura di Torino ha disposto 26 arresti. Gli affiliati avevano un arsenale durante le perquisizioni questa mattina. I carabinieri hanno ritrovato 21 fucili e 16 pistole. Un fenomeno sempre più in crescita tra gli adulti mentre è in calo tra i giovani. Ancora una volta dobbiamo parlarvi del gioco d'azzardo con un nuovo studio che evidenza come la ludopatia cresca e viva intorno ai grandi eventi sportivi. È sotto l'occhio di tutti nelle strade delle nostre città, nei bar e nelle tabaccherie, sugli smartphone usati anche sui mezzi pubblici. Si gioca, si tenta la fortuna, si scommette sempre di più. A cercare di studiare e capire il fenomeno in profondità è stato l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa che ha diffuso dati sui quali si possono organizzare e mirare gli interventi di contrasto e prevenzione alla ludopatia. Il numero di giocatori fissato in chi almeno una volta all'anno ha giocato è aumentato parecchio, passando dai 10 milioni del 2014 ai 17 milioni del 2017. E sempre nello scorso anno uno di quei 17 milioni era formato da studenti dai 15 ai 19 anni con una tendenza però, e fortunatamente, al ribasso. Nel 2014 erano un milione e quattrocentomila. Si gioca tanto ma cambiano anche le modalità, la tecnologia sembra aiutare chi vuole tentare la fortuna, rendendo le scommesse sempre più accessibili e le vincite da mal di testa dei giochi tradizionali non sembrano avere più effetto. E così negli ultimi quattro anni è sempre il gratta e vinci, il più diffuso con il 74% delle giocate, in crescita dal 2010, quando era preferito dal 60% dei giocatori. L'8 superena, l'8 sono in calo del 20%, mentre le scommesse sportive sono in crescita e si prendono il 28% della fetta di mercato. Un fenomeno tutto da analizzare, che vive e cresce sui grandi eventi sportivi, campionato di calcio, le grandi sfide delle coppe europee, le fasi finali di Serie A e B, la finale di Champions e tra poco più di un mese l'inizio dei mondiali di Russia, sono un volano per chi scommette su ogni piega e spunto del gioco. E sono proprio le scommesse sportive l'ambito dove si trovano in maggioranza i giocatori definiti problematici, quelli considerati a rischio di sviluppare una ludopatia conclamata. Il 72,8% si dedica compulsivamente a questo settore d'azzardo, il 67,5% preferisce il gratta e vinci, videopoker e newslot attirano il 38,1% dei cosiddetti critici. Anche il loro numero è in crescita nel 2007, erano 100.000, tre anni dopo più che raddoppiati, fino ai 400.000 del 2017, di loro il 47,1% ha un reddito tra i 15.000 e i 36.000 euro. E oggi si conclude la due giorni di sciopero degli avvocati penalisti contro la mancata approvazione della riforma penitenziaria. Dimostrazioni fuori dai tribunali e aule vuote. Oggi e ieri per effetto dell'assenzione dalle udienze degli avvocati delle Camere Penali italiane. Obiettivo della protesta accelerare l'approvazione della riforma penitenziaria perché le condizioni delle carcere italiane è più che mai grave, con un sovraffollamento medio del 133%. I legali chiedono il rispetto dei diritti dei detenuti con l'approvazione di una riforma discussa per tre anni, approvata in Consiglio dei Ministri, ma per ora ancora ferma, che favorisce le misure alternative al carcere per i reati che prevedono una pena inferiore ai 5 anni. Questa riforma è innanzitutto urgente perché in un paese democratico quale il nostro è importante che le persone detenute siano sottoposte a trattamenti anche all'interno del carcere assolutamente umani e non in condizioni disumane. Nel 2013 la Corte Europea dei diritti dell'uomo aveva condannato l'Italia per il sovraffollamento e il governo Monti intervenne con un decreto che prevedeva la custodia alternativa in carcere solo per i reati la cui pena complessiva supera i 5 anni. Provvedimento che ha tamponato ma non risolto. Secondo gli avvocati penalisti, i carcerati oggi in Italia non sono messi nelle condizioni di rieducarsi, come prevede l'articolo 27 della Costituzione. La capienza delle carceri italiane è stimata intorno alle 50.000. Ormai i detenuti italiani hanno superato questa soglia. In questa situazione pensare a un trattamento rieducativo sia piuttosto difficile. Il recente decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri è ora fermo visto che le commissioni in questa nuova legislatura non sono ancora state costituite anche se c'è stata la richiesta del Ministro della Giustizia Orlando di esaminare il provvedimento nella commissione speciale richiesta però respinta dal centro-destra e dal Movimento 5 Stelle. Gli avvocati chiedono di fare presto perché le statistiche dimostrano che la rieducazione allontana dalla delinquenza. Chi impara un lavoro in carcere a percentuali di recidiva dell'1% che ottiene una pena alternativa del 30% chi sconta la pena esclusivamente in cella del 70% dei casi ci ritorna. Per oggi è tutto TG Crona che torna domani. Buona giornata a tutti voi.